C'è rabbia e tanta amarezza tra le titolari del negozio Passioni Fashion situato al civico 17 di via Milano a Bolzano. Il loro negozio è stato preso di mira dai ladri, un colpo che ha fruttato, stando alle prime estime, quasi 30.000 euro. I malviventi hanno agito nella notte senza lasciare alcun segno di effrazione. Infatti questa mattina all'apertura le due titolari, Anna Colella e Edda Roncon, hanno trovato la porta del negozio già aperta. In un primo momento hanno pensato potesse trattarsi di una dimenticanza, in quanto la serratura non presentava alcun segno di forzatura. Entrando invece hanno avuto la conferma che a lasciare la porta d'ingresso chiusa, ma senza mandate, erano stati ladri. Siamo arrivati stamattina, la mia socia ha aperto con la chiave e normalmente si è spinta tranquillamente la porta. Non hanno sfondato niente, non so come sono riusciti a entrare, però hanno portato via tutto, tutta la parte uomo che avevamo appena caricato. Dell'Imperial, una fetta della parte da donna che è Danny Rose, Contatto, Cristina Gabbiola e tutte le aziende di campionario. Tutta la roba era per terra, l'avranno portato via per 30.000 euro di roba. Voi vi siete accorti dunque questa mattina? Stamattina, anche perché diceva proprio un cliente che è passato stanotte, ieri sera, sul Tardi e era tutto a posto. Per cui è stato il furto stanotte sul Tardi. I ladri hanno agito a colpo sicuro, portando via i capi d'abbigliamento più costosi, sia da uomo che da donna. Indagini sono in corso da parte della polizia.